Ciao, come sta il tuo patrigno? È appena uscito dalla sala operatoria e al momento è ancora sotto anestesia, ma pare sia andato tutto bene. Sono contenta. Siete molto legati? Non proprio. Per me è come un estraneo dopo la morte di mia madre. E il tuo vero padre? Mai visto e mia madre non mi ha mai detto chi è. Sai, quando ho conosciuto il tuo patrigno, era preoccupato per te, come un vero padre. Non ho fatto altro che sognare di conoscere il mio papà. Ebbene, io non ci badavo, ma lui mi era sempre accanto, come un padre. Tu sarai la prima persona che vorrà vedere quando si sveglia, per sapere che stai bene. Va da lui.